L'appuntamento per gli appassionati è nella notte tra il 17 e il 18 giugno per vedere come nasce un tappeto fiorito e scoprire all'alba il capolavoro delle infiorate. Spello prepara il suo appuntamento annuale e lo ha intanto presentato al pubblico stamani a Palazzo Donini a Perugia. Per l'occasione il sindaco Moreno Landrini ha ricordato le vetrine di rilievo che gli infioratori di Spello hanno avuto nel corso dei mesi precedenti, dall'infiorata per Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria degli Angeli lo scorso agosto a quella recente a maggio per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita ai mosaici di Sant'Anna. Spello è la forte identità di città d'arte dei fiori con le infiorate del 17 e 18 giugno, quindi il 17 giugno la notte dei fiori e il 18, le infiorate del Corpus Domini, veramente arriva all'apice. Ma le infiorate sono antiche nel tempo, già dal 1600 ci sono i primi segni per poi arrivare al 1800, per poi arrivare al concorso che le associazioni infiorate di Spello veramente va detto un grazie per quanto è prezioso il loro contributo durante l'arco dell'anno e per i tanti infioratori saranno oltre 1500 le persone infioratori impegnate durante la notte dei fiori per la realizzazione di queste opere veramente straordinarie. Molte le novità per quest'anno e gli ospiti speciali, in primis la partecipazione del comune di Sanremo e della comunità di Sant'Egidio che realizzerà una sua infiorata, quindi il sondaggio e la votazione della giuria popolare attraverso un'app ideata da quattro giovani Umbri, il laboratorio di arte e terapia dedicato ai bambini nell'ambito dell'infiorata dei turisti e un annullo speciale dedicato ad Eros Donnini che per oltre 30 anni ha dedicato numerosi francobolli e cartoline a Spello. Iniziative che testimoniano la volontà di aprirsi ai giovani e di stringere collaborazioni ha spiegato il presidente dell'associazione degli infioratori Guglielmo Sorci ricordando anche il progetto Infiora Autismo con la fattoria sociale La Semente di Spello e la collaborazione con i giovani imprenditori del micro birrificio 19 che hanno intitolato la birra etica ai fiori di Sambuco. Inoltre si continua ad incoraggiare la partecipazione attiva dei visitatori sia attraverso l'infiorata dei turisti che nel 2016 ha raccolto circa 100 persone provenienti da tutta Italia e dall'estero sia tramite i social che consentono di coinvolgere sempre più giovanissimi. Spello adesso è in fermento i vari gruppi stanno raccogliendo stanno separando i vari petali a seconda del colore li stanno essiccando nella maniera più opportuna quest'anno il fatto che l'edizione è spostata in avanti consentirà di avere una gamba di colori sicuramente più ampia dei fiori più belli rispetto ad edizioni precedenti i bozzettisti stanno ultimando gli ultimi ritocchi ai bozzetti quindi siamo pronti per partire. Tante le iniziative che fanno da cornice alle infiorate mostra appuntamenti musicali e visite guidate notturne ai siti d'arte ce n'è davvero per tutti i gusti a partire già dal 10 giugno.